ecco mio amore sono pronta! ti piaccio? grazie, grazie mille, si stasera ho deciso di fare i boccoli e di mettere il rossetto rosso si, lo faccio molto raramente proprio perché non ho motivo di metterlo è un rossetto molto acceso quindi farebbe strano metterlo per andare a fare la spesa oggi invece è motivo giusto ma ti sei fatto la barba? mi sono quasi graffiate le mani ma come? io pensavo che fossi già pronto anche perché ti ho visto vestito ma no, così non va bene così proprio no prima di uscire pensavo ti facessi la barba no amore così non mi piace io direi che bisogna farla ti rende più, non so come dire, più pulito dai oggi vorrei vederti così che dici se te la faccio io? so che è un procedimento che non ti piace fare tanto potrei aiutarti stasera? molto volentieri perfetto perfetto ok, ottimo allora tu, Silvi, accomodati stai comodo tranquillo io vado in bagno prendo le cose che ci servono ovvero il rasoio ha la schiuma da barba un asciugamano pensavo di prendere anche un gel detergente per detergerti un po' il viso e una crema per poi idratare la pelle dato che sarà un po' irritata sì che dici? ok, sì, sì, facciamo presto non ti preoccupare sì, se vuoi puoi mandargli un messaggio e puoi dirgli che siamo in ritardo circa una ventina di minuti sì, dai, se vuoi appuntare mezz'ora ok ottimo sì, corro, vado subito eccomi qua tesoro non ridere guarda cosa ho trovato ho trovato questo massaggiatore che ci aiuterà a detergere il tuo viso non ti preoccupare non è pericoloso tranquillo lo utilizzo io e come vedi è tutto ok con la mia pelle e poi sì, è l'unica che ho è una fascia per i capelli così il tuo ciuffo almeno lo tengo lontano da tutti i prodotti che utilizzerò oggi su di te secondo me invece starei molto bene sai? dai provo a mettertela e vediamo come stai allora vieni qua ti devo infilare la testa qua dentro ok? rialzo un po' ok? perfetto vi sistemo un po' il ciuffo in tutti i capellini dentro ok? vedete un po' il fiocco ma guarda che tutto sommato non stai male puoi andare anche così alla festa scherzo scherzo allora io direi che possiamo passare al gel detergente e al massaggiatore che dici? ok dai tu intanto rilassati ok? non pensare a niente so che oggi hai lavorato e sei un po' stanco quindi prova a dedicarti questi 20 minuti a te allora ho qui con me questa schiumettina che è una mousse detergente sì con microalga per le pelli da normali a miste quindi per la tua va benissimo allora lo applico un po' qui sul massaggiatore detergente massaggiatori detergente e vado a detergerti il viso senti come profuma è buonissimo vero? proprio buono buono e voglia di mangiarlo 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 allora inizio a detergerti la zona della palpa qui ok? perfetto le guance le tue guanciotte successivamente il mento l'altra guancia ok 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 qui salgo sempre un pochino più su ok ok passo un po' alla fronte passo un po' alla fronte ok perfetto il naso molto importante detergere la zona D ok qua così si no detergo bene anche questa guanciotta qua ok il mento anche i baffetti qua ok ottimo perfetto così per non perdere troppo tempo io direi che siamo a posto senti che bel suono sai che io sono amante di tutte queste cosine ASMR questi suoni rilassanti spesso di tartasso con queste cose lo so infatti grazie che mi sopporti e sopporti e sopporti quanta bella schiumetta quanta bella schiumetta quanta bella schiumetta ok dai non perdiamo troppo tempo passiamo al passaggio successivo eccomi qua eccomi qua eccomi qua ti pulisco un pochino il viso con queste due spugnette umide ok vado a toglierti il gel detergente che ti avevo applicato prima sì allora un po' sulla fronte sulla fronte sulle guagge sulle guagge ok così adesso sul nasino ok perfetto così sul mento sul mento sul mento detergo detergo bene il mento le guagge il nasino e la fronte 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 ok perfetto perfetto ottimo ok adesso vado ad asciugarti un pochino il viso dato che è leggermente umido e successivamente andrò a rasarti via tutta la barba rasarti 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 via tutta la barba ho qui per te questa asciugamano pulitissimo profumatissimo bianchissimo appena lavato sì sono quelli che abbiamo preso insieme all'IKEA degli ricordi sono fantastici sono anche di ottima qualità sono belli robusti si assorbono bene allora ti tampono un po' il viso ti tampono un pochino il viso ok così giusto un pochino dato che era umido ok ottimo perfetto adesso prendo la schiuma da barba e inizio ad applicartela applicartela sul tuo viso vicino 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 vicento ho trovato questo schiuma da barba questa schiuma da barba e questa schiuma da barba allora l'acido un po' prima di applicartela sul viso dimmi tu quanto ce ne può servire basta così? ok anch'io credo che possa bastare anche perché non hai troppa barba in eccesso allora vieni pure un pochino più vicino che te la metto sulle zone che andremo a trattare sulla barba fai così ok un po' sui pappetti sì non parlare altrimenti la mangi ok ottimo perfetto un altro pochino qua ok bene applicata fa un dottore buonissimo è così soffice e viene voglia di mangiarla fa anche dei suoni particolarmente piacevoli poi tanto mi prendo queste pause in cui produco suoni perché mi rilassa me stessa farlo si lo sai che ho questa risa verso queste cose i suoni cassanoli beh ammettilo che è bello senti vero? tanto tanto bello beh si ok non perdo troppo tempo tu intanto hai scritto il messaggio vero? puoi anche abbondare sui 40 minuti ok vado a sciacquarmi le mani e arrivo da te ok eccomi qui mi sono lavata le mani e già che ci sono preso anche il rasoio tuo monouso giusto vero? è questo qui? ok si l'ho già aperto mentre venivo qui perché è un'impresa aprirlo veramente veramente proprio li stringono ah lascia stare mi sono liberata di questo coperchio inutile e adesso andrò a rasarti ok? tu rilassati non ti preoccupare farò un buon lavoro non è la prima volta che faccio la barba tranquilli allora iniziamo dai baffetti quindi fai così ok ok cicc 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 passiamo non hai tantissima non hai tantissima barba come dicevo prima quindi adesso guarda potrei dire che ho quasi finito ok ottimo alza un pochino il mento cicc 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 che brutto ottimo ottimo ok ok un altro pochino di qua così così questo qua così ok cicc 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 ottimo toccati un po' senti se ho fatto tutto bene o se hai lasciato qualcosina magari sai dei punti in cui lasci sempre la barba insomma senti un po' ok sì sì vedo qualche peletto ok e poi anche qua ok perfetto l'ultima passata e mi sembra a posto dimmi un po' tu tutto ok perfetto perfetto allora abbiamo finito adesso ti asciugo un po' il viso ti tolgo un po' i resti di schiumata barba metto la crema e corriamo ok sì sì faccio presto tranquillo mamma mia stai tranquillo come se dovessimo andare non so da chi cioè alla fine siamo tutti amici siamo familiari stai tranquillo e quante volte anche loro hanno fatto tardi noi non abbiamo mai detto niente dai su goditi un po' il momento con me allora un po' così ok perfetto ottimo ma fammi mettere la crema almeno non mettermi fretta ho preparato per te questo gel all'aloe è veramente ottimo dopo la barba magari o la ceretta insomma non penso che tu la farei mai però giusto un commentino sì sì tranquillizza molto la pelle anche perché comunque dopo la rasatura è un po' irritata sai come possono venirti un po' i peli incarniti o i puntini rossi insomma la pelle si irrita e quindi questa crema è fantastica è anche ottima per le scottature sì 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 allora un po' anche sotto il mento un po' sulla fronte ciò che ci sono su tutto il viso e i resti sulle maniche che cosa stai cercando così impulsivamente? la tua giacca eccola qui stirata lavata profumata sapevo che l'avresti indossata proprio per questo l'ho preparata per te sì dai su mettila io metto la giacca anch'io sì e ci vediamo qui ok? dai vieni grazie 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 a tutti